Il ministro dell'interno Angelino Alfano ha fissato con proprio decreto la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 5 giugno 2016. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 19 giugno. Lo rende noto in una nota il Viminale. Sono oltre 1.300 i comuni chiamati al voto nella tornata di giugno. Nella BAT ci sono i comuni di Spinazzola, Minervino e Trinitapoli. Sette sono invece i capoluoghi di regione con Bologna, Cagliari, Milano, Roma, Napoli, Torino e Trieste e 26 i comuni capoluogo di provincia. Grazie.